va ora in onda racconti minimi il podcast dedicato a brevi novelle inedite curiose inquietanti misteriose fantastiche grottesche divertenti di mariano froldi buon ascolto dracula e rimbo sul letto persa nei millenni nella sabbia del tempo composta da infiniti granelli si tramanda la leggenda che vuole i gatti soprattutto quelli neri e grigi portatori di poteri magici la loro energia positiva come uno scudo si riverserebbe negli ambienti in cui è presente un'aura negativa allontanandola per se stessi e per coloro che li hanno adottati i felini a guisa di catalizzatori e spugne delle energie extra corporee sarebbero anche capaci di eliminare o lenire malattie e sofferenze dal libro di barbà antico guru indossardo ligure dracula era un bastardino nero con denti a guzzi aveva circa un anno di vita si era allungato e aveva un fare trotterellante da modella come solo i gatti sanno aveva una curiosa macchia bianca all'altezza del petto e delle zampette posteriori lo faceva sembrare comico un pinguatto spesso si allontanava per ore e curiosava fra alberi e pietre e terra aveva la fortuna di vivere in una grande campagna il suo padrone un singolo incallito niente moglie pregresse né figli ultra sessantenne segnante di filosofia prossimo alla pensione aveva una grande inevitabile passione per i libri i film i fumetti e i gatti il nostro giunto alla mezz'età aveva semplicemente preso atto che alcune cose non possono cambiare e non c'è altro da fare che accettarli cercando di dare comunque un senso pieno e profondo all'esistenza la conclusione del suo indagare nell'animo umano dopo il mezzo secolo l'aveva riassunta filosoficamente per l'appunto in una frase misteri della vita poco male comunque il docente aveva trovato il suo equilibrio praticando una vita con una grande attenzione per la salute fisica nonostante fosse un amante del buon cibo e di bacco scrivendo e leggendo libri dagli amati filosofi alla storia e alla letteratura insegnando e gustando le tante belle cose della vita che per fortuna non mancano e proprio per questo amava i gatti d'altronde era in buona compagnia po emingway neruda baudelaire axley crowack solo per citarne alcuni non sei tu che adotti i gatti sono loro che ti adottano che decidono che tu puoi accompagnarli per il loro tratto di vita in comune con noi decidono per vie e affinità misteriose è come se ricercassero una particolare vibrazione se quella risuona allora ti cercano e ti trovano rimbo albergava sonnacchioso e placido già da dieci anni in quella casa ma non si trattava di vecchiaia o delle malattie che pure aveva era sempre stato così placido zen uscire fuori dal suo dominio già mai lo faceva solo per una quieta passeggiata giusto per sgranchirsi le ossa e poi ronfava sempre era anche egli un incrocio un certosino imbastardito con quel classico grigio spettacolare con una macchia bianca proprio sullo sterno la sorella del nostro insegnante lo aveva pregato salmodiando pure in turco perché a suo tempo se lo prendesse in casa è una cosa che a dirla sembra un poco assurda ma è totalmente vera cioè c'era anche una certa urgenza nelle prefiche pro rimbo perché il poverino veniva sodomizzato da tutti i gatti del quartiere e quante volte la sorella del professore aveva dovuto ricoverare il poverino agitando furiosamente manici di scopa in alto e urlando per allontanare i randaggi delinquenti che infierivano presi forse dagli ormoni impazziti o per segnare il territorio sull'indifeso bastardino a pochi metri dalla porta di casa e così l'insegnante intenerito dalla storia tragicomica del musetto dolcissimo del micino oltre che naturalmente dalle amorevoli e pressanti insistenze soprattutto della sorella cui naturalmente non avrebbe mai potuto dire di se l'era portato in casa rimbo aveva la fiv l'aids felina si era scoperto quando era stato portato dal futuro padrone dal veterinario del paese per verificare lo stato di salute di rimbo il medico l'aveva presa sul personale giorgio barzaglietti alto e smunto capelli radi ricci occhi celesti come pochi e gran virtuoso della batteria acustica oltre che valente veterinario non credeva ai suoi occhi e non se ne capacitava si trattava solo di una serie di analisi routine il gatto era bello in forma era così dispiaciuto che il micino avesse la fiv sembrava quasi che la sentisse come una colpa lui che non c'entrava niente cosa significa esattamente che alla fiv chiese il neopadrone beh la cosiddetta immunodeficienza felina spiegò giorgio hai presente cosa accade con una persona sieropositiva no può successivamente avere l'aids conclamato oppure può continuare la sua vita più o meno normalmente per i gatti la cosa è un poco peggiore nel senso che se asintomatici possono condurre comunque una vita normale questo il caso di rimbo però la loro aspettativa di vita media secondo alcuni studi è di appena cinque anni tuttavia posso dirti anche per esperienza diretta che i gatti asintomatici e domestici sterilizzati hanno una vita molto vicina a quella dei gatti normali ovviamente devono restare a casa e evitare per quanto possibile contatti con altri gatti a meno che non instaurino come posso dire rapporti pacifici perché essendo immunodepressi lo stress potrebbe dare loro problemi e poi ovviamente devono essere controllati periodicamente vaccinati e così via ma è come se la può essere presa chiese il professore può essere nato già sieropositivo oppure il virus gli può essere stato trasmesso da altri gatti beh plausibile visto quello che mi ha raccontato mia sorella comunque ti ripeto credo potrebbe vivere anche una vita quasi normale soprattutto in qualità e durata ok capito replicò il professore tagliando corto prima di portarsi a casa rimbo l'origine del nome era curiosa era nato per una presa in giro poiché il micio sembrava un poco rimbambito il padrone ne aveva fatto un nome rimbo forse non sarà stato il più bello dei nomi ma certamente era originale però rimbo non era stato poi così rimbambito non aveva avuto particolari problemi di salute se si accettua l'obesità era goloso e si muoveva poco risultato assicurato inoltre aveva queste zampe grosse mattozze quasi sottodimensionate rispetto al corpo così come la coda come un incrocio fra un gatto e un bassotto un gassò il che considerando il pancione che aveva messo su in pochi anni lo faceva sembrare davvero comico e poi ronfava quasi peggio di un cristiano tanto che le prime volte il nostro professore che aveva un dito finissimo si era pure un poco spaventato non sapendo da dove provenisse quello strano e inconfondibile brontolio in più rimbo tirava certe caloffe da far scappare dal soggiorno per la puzza come si è detto dracula era arrivato dieci anni dopo e dopo le prime settimane critiche fra sbuffi e ringhi minacciosi dove quasi sempre le aveva prese dracula avesse visto che pattonate gli tirava rimbo ed era una sfida impari avevano trovato il loro modus vivendi e non si rompevano più di tanto le scatole a vicenda dracula si era fatto vivo per la prima volta durante una notte da treggenda quelle notti assurde e ventose fra l'autunno e l'inverno che trovi solo nelle piccole isole con tuoni e fulmini da paura che è meglio se stai rinternato in casa rigorosamente lontano dalle line elettriche tese sui pali in alto o se fuori casa investiti in pieno dal temporale te ne stai dentro l'auto che pare sia il mezzo più sicuro il suo quasi padrone che ancora non sapeva di essere stato scelto aveva sentito un insistente miagolio poco lontano dal soggiorno incuriosito era uscito sull'ampio piazzale aveva acceso la luce della grande tettoia e mentre diluviava si era trovato davanti quel frugoletto che aveva una famina udita che si era nascosto sotto una delle gomme posteriori della berlina del quasi padrone solo gli occhi gialli come loro avevano fatto capire oltre al miagolio che lì nel buio c'era un micino il nostro si era intenerito e si era dato dello sciocco ed era rimasto fregato aveva tirato fuori un piatto di plastica aperto una scatoletta di tonno al naturale gliela aveva messa a pochi metri dallo scalino della porta d'ingresso della maggiore la tettoia riparava ampiamente l'area e lo aveva osservato mentre quello piano piano vinceva la sua naturale un po' finta ritrosia avventandosi sul tonno che sicuramente gli sembrava la fine del mondo i gatti non amano pegni veloci vogliono contrattare come i venditori del succo che si offendono se non si gioca con loro mentre ti offrono del tè alla menta poi il giorno dopo il micio si era ripresentato e allora questa volta il single aveva messo il piattino dentro la porta e il giorno dopo ancora lo aveva fatto accomodare in casa gli aveva preparato una cuccia di fortuna con del cartone delle vecchie coperte di lana nell'arco di una settimana dracula si era ritrovato una cuccia nuova in soggiorno la pappa ogni santo giorno acqua pulita le tira profumata la lavanda e coccole ricambiava facendo le fusa appena il padrone lo guardava gli toccava la testa ogni tanto provava a parlare con il padrone ma quello non capiva quando il padrone non c'era e lo lasciava dentro lui si metteva sopra l'enorme frigorifero bello al caldo e da lì proteggeva la casa perché se anche il sonnacchioso rimbo avesse voluto e non voleva difficilmente avrebbe potuto con quella mole essere un pericolo per qualcuno se non per se stesso dracula e rimbo rispondevano quasi sempre il richiamo del padrone i gatti sono così non amano essere paragonati ai cani che sbavano appena il padrone li fissa i gatti ogni tanto si fanno i fattacci loro perché vogliono rimarcare la loro alterità e alterigia chissà dove vagano quando mancano la notte chissà dove si addormentano e cosa sognano prima di rappresentarsi nella loro casa all'alba dracula quando si addormentava si acciambellava o si allungava tirando in avanti il muso come se fosse una corazzata in mezzo al mare rimbo invece si bloccava come un film stoppato dal pulsante pausa spesso in pose assurde inverosimili spiaggiato supino con le zampe rattrappite il padrone stava male si era beccato una pesantissima influenza che non ne voleva sapere di passare si era dimenticato di vaccinarsi e malediceva se stesso ipocondriaco come pochi per quella sciatteria che ora gli spaccava le ossa i muscoli i polmoni si malediceva per l'arsura della gola e le labbra screpolate ma soprattutto era la testa quella che lo lasciava senza tregua non che non ci fosse abituata le cefalee voi per la postura voi per l'altezza era quasi un metro e novanta voi per la vita sedentaria tipica dell'intellettuale sin da ragazzo aveva sofferto di atroci mal di testa che partivano quasi sempre dal collo ne vuoi controlli centri cefalee radiografie per le cervicali risonanze magnetiche con contrasto tac doppler nulla di nulla il nostro ipocondriaco aveva però per fortuna un farmaco elettivo un vero e proprio toccasana il diclofenac che gli toglieva si è preso in tempo e questo era il segreto come gli aveva spiegato il neurologo cioè appena l'insorgere di primi dolori quasi totalmente le cefalee però questo dolore qui quello di cui stiamo parlando ora lo faceva semplicemente impazzire era come se qualcosa gli trappanasse le tempie ma non solo anche fronte e nuca come se un enorme tubo rovistasse lì fra la sua materia grigia con una sadica mano che rimestava lì dentro in continuazione nulla lo faceva stare meglio nulla aveva pure preparato una borsa per il ghiaccio e se l'era messa sulla fronte un minimo sollievo ma c'erano dei momenti in cui neanche riusciva a ricordarsi come si chiamava non aveva voglia di mangiare da giorni voleva solo stare a letto e chiudere gli occhi giusto un pochino d'acqua ogni tanto che gli sembrava un brodo dal gusto schifoso la bocca aveva un sapore indefinibile asciutto e mefitico la lingua sembrava raspare dentro asciutta come una lisca il medico era rimasto sorpreso dalla ferocia di quell'influenza andandolo a visitare gli aveva anche consigliato un ricovero precauzionale in cuor suo aveva paura che si trattasse di meningite ma non lo aveva detto al paziente per paura che quello andasse ancora di più in ansia e preoccupazione se la febbre avesse continuato a persistere il giorno dopo si era appuntato di andare nuovamente a visitarlo avrebbe fatto la classica manovra per vedere se c'era un intorpidimento cibitale in quel caso lo avrebbe fatto ricoverare con le buone o con le cattive tra l'altro in quel freddo e piovoso dicembre nel giro di una sola settimana due anziani se ne erano andati a causa della febbre non bisognava mai sottovalutare i sintomi dracula dopo che il medico se n'era andato e dopo che il padrone si era ributtato a letto dirignando i denti per la febbre il dolore si acquattò sotto il letto e attese con calma lo stesso fece rimbo certo con molta più fatica per via della pancia quasi che i due si fossero messi d'accordo il padrone stava troppo male per accorgersi di loro il febbrone lo faceva stravagnare come dicevano da quelle parti che vuol dire stralunare dracula attese il momento opportuno quando il padrone riuscì a prendere sonno si era preso non so quante tachipirine ma nonostante ciò la febbre non ne voleva sapere di calare il sonno arrivò chimico e tossico per sfinimento sudava copiosamente dormiva parlando a varvera e agitandosi i mici uscirono da sotto il letto dracula si mise dalla parte in cui il padrone aveva reclinato la testa fece un gran balzo e si mise anzi si curvò sulla nuca del padrone seguendo nella forma poi con delicatezza allargò le zampe come i raggi di una ragnatela e tocco con la pancia delle dita tecnicamente i cuscinetti digitali la fronte madida di sudore e le guance del padrone mise il musetto a contatto con i radi capelli più o meno al vertice della testa dopo pochi secondi di quella curiosa posa cominciò a vibrare fortissimamente e la cosa durò per parecchi minuti era come se dracula fosse scosso dall'elettricità ma non vi era alcun cavo lì attorno nulla a contatto diretto con l'energia elettrica vibrava e i peli neri erano irti come aculei ma continuava a restare lì piantato e soprattutto senza usare le unghie le piccole zampe anteriori pressavano la testa del padrone le zampone di rimbo invece che si era messo all'estremità opposta con la sua mole pesante sembravano quasi toccare i piedi del padrone e anche rimbo pur nel suo modo goffo vibrava come scosso dalla corrente elettrica eppure il pancione come un tamburo ben teso sembrava animato da vita propria dopo un po il padrone sembro avere un respiro meno affannato e pesante più leggero più normale ad un certo punto dracula come uno straccio si lasciò andare si acciambello a fianco del padrone era caduto in un sonno pesantissimo anche per un gatto rimbo divenne un enorme virgola e si acciambello invece sul fianco del padrone ronfando decisamente più del solito la sveglia suono presto alle 7 l'insegnante si era dimenticato di toglierla dello smartwatch e di togliere quest'ultimo dal polso vibrava con un ritmo dolce accompagnato da musica rilassante fuori albeggiava la prima luce del sole penetrava a fatica dalle persiane ma nella stanza buia ci si vedeva chiaramente raggi sottili e ristoratori la illuminavano il padrone aprì gli occhi era così stanco però si sentiva finalmente sfebrato una sensazione bellissima si sentiva tornato alla vita e una nuova energia sembrava rasserenarlo non vedeva l'ora di alzarsi farsi una bella doccia prepararsi un tè bello forte e intenso con una spruzzata di limoni del suo terreno finalmente dopo una settimana che era sembrata eterna la teiera comprata da biaggio l'elettrotecnico una decina di anni prima era un portento sembrava un acquario per pesci rotondo e al centro aveva uno stelo sottile alverce dal quale si metteva il tè sfuso o le bustine una cosa di una semplicità estrema che preparava una vera infusione e poi si staccava da sola giusto due cucchiaini di zucchero per una bella tazza calda che dopo la spremuta a mano dei limoni doc portava il colore del tè da un marrone scuro un giallo brillante ora che con il pensiero si sentiva leggero riandava subito a quelle piccole cose che addolciscono il risveglio dalla piccola morte che è il sonno con la mano sinistra sfirò la bajur che si accese con il sensore di prossimità e illuminò come sempre un crocifisso stilizzato che le stava appeso poco sopra il professore era molto legato a quel crocifisso non tanto perché credente ma perché glielo aveva regalato in gioventù un caro sacerdote amico che poi se n'era andato con un'emoragia cerebrale in poche ore si girò e si accorse che dracula era al suo fianco acciambellato lo fissava e gli mancava solo la parola per quanto intensamente lo faceva e gli faceva le fuse rimbo con i suoi soliti grandi occhioni lo guardava un metro distante confusa un poco dissimili il padrone sorrise quei birbanti mi devono aver colto di sorpresa penso fra se esse si girò in modo tale da avere dracula faccia a faccia e gli massaggiò con un dito la piccola testa dracula gli prese le dita sembrava quasi accarezzarle e gliele lecco con la lingua rasposa rimbo sembrò un poco contrariato e goffamente si avvicinò al padrone allontanando con la sua testa quella di dracula per prendersi la sua dose di coccole dracula si stirò ben bene mettendo la colonna vertebrale a punto di domanda al rovescio e poi si buttò fuori dal letto con uno slancio agile cadendo però leggermente sbilenco riguardo il padrone e miagolò rimbo che come al solito era di poche parole si lasciò scendere a corpo morto dal letto tipo slitta e si mise anche lui a miagolare avevano rimbo e dracula e per chissà quali arcane fatiche molta molta fame avete ascoltato racconti minimi il podcast dedicato a brevi novelle inedite curiose inquietanti misteriose e fantastiche grottesche divertenti di mariano froldi appuntamento al prossimo racconto